E vai you! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale SuperAllen, siamo qui oggi con un nuovo video, oggi siamo qui dalle figlie di Zio Artù per reagire ad Inter Napoli. Vai you, non vedevamo l'ora di guardare questa partita, speriamo bene un mese che non guardiamo il Napoli, vedo già Lautaro parecchio incattivito, però in panchina. E nulla, sono onorato della presenza di tante persone stasera, non siamo tutti quanti adesso in questa clip perché stanno finendo di mangiare, dopo ci saremo tutti. Vai you, sempre e solo forza, Napoli! Allora, un arse, come si chiama, Luca, non lo so, non lo so, non si mantiene. Guardate Dukaku, subito in partita, Albetta, ma chi l'ha che l'ha da avanti, non lo so, 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 non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, ma anche lo so, non lo so. Geniale, poi Meret, qui non si vede sotto, forse si incorsa con il destro La scuola di Meret, è proprio evidentissima, grandissima, fa la gol Lo spazio di Marella al limite Lo spazio di Marella Lo spazio di Marella, questo è San Gennaro Sulla campagna, sulla campagna, sulla campagna, sulla campagna Nooo E' poco, va' poco, va' poco E vabbè ragazzi, fine primo tempo, 0-0 ma siamo stati letteralmente graziati Quattro nitide occasioni dette proprio, per l'inte sotto porta Tra parate e pressione ce la siamo cavate Noi l'unico tiro al 45ismo, ho detto tutto, speriamo bene Noi l'unico tiro al 45ismo, ho detto tutto, speriamo bene Avisci pazzini Avisci pazzini Avisci pazzini Non so, di pazzesci pazzini Non so č capì green Non so il golo era all'indade, eh Il golo era all'indade, s'hanno dagli s'hanno kedיו Allo redes awake Si hanno tagliato sette goli, si hanno pagliato Mi dopo, daoo Si buona S Il c background solo ma da sciupparsi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti